Chiamare in causa Global Nomad, un nomade globale. Prego Federico, mi segua. Dove vuole, col microfono in mezzo. Mi avvalgo della facoltà di rispondere da dove ha parlato Shannon, perché ho calcolato che è a 35 cm di statura sopra la mia. Gli ho contati uno per uno, lentamente, allora almeno poter restare eretto. Tu mi devi dire cosa ha portato. Certo. L'oggetto. Un banalissimo iPod Nano. E non voglio fare pubblicità alla Apple, perché le stesse funzioni le può svolgere qualunque gadget MP3, tanto per intenderci. Io lo uso per riempire di letture, si potrebbe fare lo stesso con la musica naturalmente, nei tempi molto lunghi come può essere un volo New York-Pechino, 15 ore di volo non stop, o Shanghai-San Francisco, 14 ore. E questo oggettino minuscolo e leggerissimo contiene una biblioteca, contiene, in questo momento credo di avere 25-30 libri scaricati, audio libri naturalmente, oppure riempio anche dei tempi più banali e più corti, tipo la mia corsa a Central Park a New York per allenarmi alla maratona. E quello che ha a che vedere con il discorso della resilienza e della rinascita è se sappiamo usarle bene, queste nuove tecnologie ci offrono delle potenzialità straordinarie. Pensate cos'è il progetto attualmente in corso tra le più grandi università americane per costruire la moderna biblioteca ad Alessandria, completamente digitalizzata e completamente gratuita. Che cosa questo significa in termini di accesso alla conoscenza, alla cultura? Non sono un feticista delle tecnologie, so che le tecnologie sono neutre e tutto dipende dall'uso che ne facciamo, dai valori etici, dalla proposito dei libri che ci sono in questo momento sul mio. Uno si chiama In the eye of a needle, nella cruna di un ago, e quindi è evidentemente la citazione evangelica, la frase di Gesù Cristo, è più facile a un cammello passare dalla cruna di un ago che a un ricco entrare nel regno dei cieli. Ed è un fantastico saggio storico sui primi secoli della cristianità, e il modo in cui da Sant'Agostino a Sant'Ambrogio fu affrontato il problema della ricchezza, molto attuale, alla luce delle cose che Papa Francesco sta dicendo oggi su questo tema. Un altro libro invece che ho in questo momento, tra i tanti scaricati, è la storia di 4.000 anni di debiti. E questo ha a che vedere di più con quello che dirò sulla resilienza nell'economia, perché mette in una prospettiva storica il problema del debito pubblico italiano, o quello americano, su cui rischia di paralizzarsi l'America e la finanza globale dopo domani, se succede il default. Ma dunque, ecco, le tecnologie dipendono dall'uso che ne facciamo, dal contesto di valori etici, di qualità della comunità umana che le utilizza. Voglio ricordare ancora, a proposito di tecnologie, quello che sta accadendo, visto che abbiamo parlato molto dell'Africa, in alcune zone dell'Africa si sta innescando una rivoluzione verde, come fu quella che nella seconda metà degli anni 70 consentì all'India di diventare autosufficiente dal punto di vista alimentare. E questa rivoluzione verde ha tra i suoi strumenti lo smartphone. Oggi un contadino africano, con uno smartphone, dispone di più computing power, potenza informatica, di quella che era a disposizione di uno dei grandi computer della NASA all'epoca del programma spaziale Apollo negli anni 70. E questo vuol dire molto concretamente accesso alle previsioni meteorologiche, accesso alle quotazioni delle derrate agricole sui mercati, e sono informazioni molto importanti, che possono fare la differenza tra la miseria e un inizio di benessere. Ma vengo al tema della resilienza, che è la condizione della rinascita. Questa frase è stata pronunciata in un contesto molto solenne da Barack Obama, il suo secondo discorso inaugurale, quello del 21 gennaio 2013, inizio del suo secondo mandato, ha detto «Nell'uscire dalla grande crisi abbiamo dimostrato la nostra resilienza». E pochi giorni dopo, il World Economic Forum di Davos metteva la resilienza tra i temi del dibattito nella sessione di quest'anno. Improvvisamente la resilienza è diventato un termine molto caldo di significato in economia. La Presidente della Camera, Onorevole Boldrini, ha spiegato il suo senso nella fisica dei materiali, ha accennato anche a un significato molto importante in psicologia, nello studio della depressione, e questo è particolarmente legato al tema economico perché tra psicologia ed economia ci sono delle traslazioni di linguaggi immediate. Noi usiamo depressione nel linguaggio degli psicologi e la grande depressione degli anni 30 è stata l'unica crisi che possiamo paragonare che ha per gravità alla crisi attuale. Ora, un esempio interessante perché Marta prima ha parlato di oceani. Allora, è interessante come gli economisti stiano anche guardando alle scienze ambientali e all'ecologia quando riflettono sulla resilienza dei sistemi, cioè la capacità dei sistemi non tanto di resistere quanto di assorbire uno shock improvviso esterno e rimbalzare perché resilienza è una parola per una volta non importiamo anglicismi è parola latina e il verbo vuol dire rimbalzare letteralmente e che è quello che ci interessa oggi abbiamo bisogno oggi il concetto della rinascita allora, a New York si è discusso molto dopo l'uragano Sandy di cui ricorre tra poco l'anniversario che è legato evidentemente al cambiamento climatico su cosa fare perché una metropoli delle dimensioni di New York non diventi sempre più vulnerabile a questi eventi climatici estremi e lì si sono affrontate due possibili reazioni una è impregnata sul concetto di resistenza e allora bisognerebbe immaginare di circondare Manhattan di dighe gigantesche sempre più alte in una titanica ma anche illusoria prova di forza contro gli oceani da cui alla fine usciremo comunque sconfitti l'altra invece è un'idea completamente diversa di resilienza che si affida a dei sistemi elastici che usano la forza dell'avversario la forza della natura in questo caso cioè le wetland cioè circondare Manhattan di un sistema letteralmente di stagni laghi zone che sono in grado di assorbire l'acqua di accoglierla diciamo abbracciando l'avversario per non esserne travolti e questo è molto più avanzato come sistema di protezione allora ecco nella ritorno un attimo alla psicologia perché questo ci porta subito al tema economico per gli psicologi i fattori che ci rendono resilienti di fronte a traumi e al dolore sono la solidità delle nostre amicizie la qualità delle nostre relazioni sociali la profondità degli affetti e i valori in cui crediamo allora questo è molto molto facile trasportarlo su intere comunità e su intere economie e stati in azione all'origine della crisi in cui siamo oggi ancora immersi c'è un fallimento bancario poco più di 5 anni fa 15 settembre 2008 il crack di Lehman Brothers un pensatore interessante che per formazione è un matematico Nassim Taleb quello del cigno nero per intenderci che ha studiato gli eventi statisticamente quasi impossibili riflette propone una interessante e curiosa distinzione nel sistema bancario se fallisce una banca di colpo questo rende molto più probabile che altre banche a loro volta falliscano cioè è un'interconnessione perversa crolla un anello del sistema e tutto il sistema diventa più fragile nell'industria aeronautica quando c'è un incidente aereo tutto quello che viene appreso dalle cause studiando le cause e la meccanica dell'incidente rende molto meno probabili futuri incidenti dello stesso tipo e noi e lo dico toccando legno vista la frequenza dei voli che prendo io e la parte della mia vita che strascorre noi abbiamo assistito a uno spettacolare fantastico riduzione di incidenti aerei nel corso degli ultimi 50 anni allora perché due industrie hanno due reazioni così diverse quella bancaria fa sì che la crisi lo shock esterno la renda ancora più fragile l'industria aeronautica usa lo shock esterno per apprendere c'è un manuale messo insieme da un gruppo di economisti di tutti i paesi c'è dentro anche un italiano Lino Briguglio che si chiama il manuale per piccoli stati poi c'è un sottotitolo un po' più tecnico ma dove figura la magica parola profiling vulnerability and resilience ecco manuale per piccoli stati studia casi come Singapore e la Svizzera che sono stati apparentemente molto fragili perché sono estremamente aperti al commercio globale quindi uno shock esterno li può travolgere sono piccoli e apertissimi molto dipendenti dalla congiuntura mondiale e tuttavia sono in realtà molto resilienti dagli shock esterni si sono ripresi molto più facilmente di altri ecco studiando i fattori che li rendono resilienti al primo posto vengono politiche che investono nella scuola nella riqualificazione dei lavoratori licenziati nelle reti di protezione sociale e nella ricerca scientifica ecco dove anche il collegamento con i contenuti dell'iPod e il modo in cui noi usiamo le tecnologie diventa importante evidentemente per costruire un'economia resiliente noi non possiamo pensare di lasciare immutati i nostri sistemi di valori facilmente questa questa analisi rischia di scivolare in un dibattito molto vecchio obsoleto vetusto arcaico sul ruolo dello Stato attenzione perché in realtà il ruolo dello Stato di per sé non è univoco nel renderci o meno resilienti guardate la crisi del 2008 2009 non è che per forza uno Stato grosso abbia protetto da quella crisi uno Stato ricco sì per esempio la Cina partendo da una situazione di finanze pubbliche molto floride ha usato la leva degli investimenti pubblici e non è mai entrata in recessione neanche nel 2008 2009 su un altro versante contesto molto diverso la Norvegia che usa la rendita petrolifera per investirla in un fondo sovrano che protegga il valore delle pensioni e del welfare dei suoi cittadini è un altro caso di Stato ricco e resiliente ma lo Stato grosso di per sé può essere l'anti-resilienza uno Stato costoso di fronte a uno shock esterno ha un riflesso di autodifesa protegge se stesso e quindi in qualche modo anche i propri dipendenti e scarica tutto l'onere e tutta la durezza dello shock esterno sul settore privato concludo con un'immagine di un altro pensatore americano Michael Sandel dell'università di Harvard che riflettendo sulla monetizzazione di tutto e quello che ha rappresentato di perversione della società americana prende come esempio quello che è successo negli stadi di football e di baseball un tempo ricchi e poveri stavano tutti nelle stesse tribune parteciparano delle stesse emozioni nel tifo collettivo e se pioveva si bagnavano tutti adesso sono stati inventati i cosiddetti skybox sono delle tribune per VIP tribune d'onore chiuse completamente protette completamente isolate con una magnifica visibilità sul campo una magnifica acustica ma che fanno dei ricchi una categoria a parte ed è quello che sta accadendo anche alla democrazia di molti paesi occidentali allora a questo proposito la citazione finale della resilienza deve essere per forza classica e deve essere relativa alla culla della democrazia Atene questo è Pericle che parla citato dal Tucidide dallo storico Tucidide se una città nel suo insieme è prospera può dare ai privati maggiori benefici che se è felice in ciascuno dei cittadini ma precipita nel suo insieme perché quando un uomo gode di prosperità per quel che attiene alla propria personale situazione una volta che la sua patria vada in rovina egli è rovinato insieme ad essa e in egual misura mentre se è sfortunato in una città fortunata si salva molto meglio Pericle sulla resilienza grazie Dico nulla sugli skybox perché devo dire ci sono state molte volte ci si sta tanto bene però pagano anche gli stati questo sì grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti